A Giffoni-Vallepiana, da due strade, una è quella di Giffoni-Vallepiana e la seconda è quella che viene da Faiano per la strada interna che porta a Giffoni. Multifunzionale, con carabine che vanno da 50 metri fino al 300 yard, tiro al cinghiale, tiro dinamico con le pistole, arco, balestre e tiro percorso caccia. Si associa alla società sportiva con 75 euro compresa l'assicurazione a 360 gradi di tutto, in più 10 euro per la pedana di tiro per tutto il tempo che uno desidera poi sparare. Da domani in poi, con solo due foto per fare proprio il tesserino e poi si accede ai campi quando si vuole. Io so che avete un forte sponsor, vogliamo passare la parola a lui? Certamente, abbiamo uno dei più grossi armieri della regione perché, ce lo possiamo permettere di dire così, è il nostro amico Franco che ci aiuta e ci dà una mano anche su questo.